ciao ragazzi con questo video cerco di raccontentare la richiesta di una persona che qualche giorno fa in un commento mi ha chiesto di realizzare un video ASMR ASMR con l'audible whispering and mouth sounds sinceramente è la prima volta che faccio questo tipo di video perchè ho sempre fatto un classico whisper e soundspeak letture e quant'altro perciò consideratolo come un esperimento lo so, l'ho fatto letterale spero che il microfono naturi bene tutti i tipi di suoni ma insomma non dovrebbe diludere perchè io sono nel mondo del rilassamento ASMR da poco tempo tengo diversi canali che insomma mettono video del genere da tanto tempo canali esteri solo da poco ho scoperto che l'entrano come l'italiano sono molto molto contenta perchè grazie a loro imparo tante cose e mi rilasso anche riuscendo a capire ciò che raccontano ciò che vogliono comunicare con i loro racconti con le loro letture è molto interessante perchè ho scoperto una nuova dimensione di rilassamento che personalmente non conoscevo e solo da poco ho deciso di realizzare video per cercare di trasmettere agli altri quello che provo io e avevo voglia di mettermi in gioco e di cercare di trasmettere le mie sensazioni agli altri quindi ho deciso di caricare qualche video per prova dato che ho avuto un seguito piacevole ho deciso di continuare anche perchè mi piace tantissimo ricevere commenti nei quali le persone esprimono gratitudine insomma per quello che riesco a offrire loro ora lascio magari spazio a qualche esperimento vocale una cosa che odio di questi video di questi ho un naso enorme io non ho un naso enorme però per questi video sembra che io abbia una salorme e non mi fa molto piacere perchè più è una sua patata ed è anche conosco insomma il delirio totale perchè quando non ho un argomento di cui parlare quando non ho qualcosa di più strano non so che cosa dire e quindi andavo facendo qualche esperimento vocale sperando di rilassarvi perchè io per prima quando ho realizzato questo genere di video mi rilasso moltissimo mi rilasso veramente tanto e spero di riuscire a comunicare lo stesso anche a chi capita in questi video che rischi 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 come scurrivo 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 spesso e volentieri quando per gioco realizzo questo tipo di suoni scusate c'è lo spruzzatore automatico quando realizzo questo tipo di suoni infatti è capitato anche in occasione della registrazione del mio video precedente su mouth south il mio dolcesimo cane mi guarda storto perchè pensa che stia chiamando lui quando faccio suoni tipo mi guarda storge la testa e da una cosa molto molto buf storge storge setturo nasce lavori Grazie a tutti 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 Grazie a tutti